Ah si buonanima Da no doppio piccolo così Oddio in realtà va pure bene Facciamo così Un gamma rotasti cazzi tanto basta picco Ma gli buca proprio il pisello piccolo Ecco perchè Selvino ha shottato Giustamente poverino Non mettiamo gente a casa Vediamo Trovo sezionato a team p butta sempre una liria a vlo al nuovo pg che esce con un po' di perfrazia Se a lui gli piace Qua avevo un po' una tornazione farlocca E poi nel turno anziio di prima non c'avevo manco con god eh C'avevo solo doppio gamma che non avevano presi i pugni Troppo qua a shottare non riusciamo Però inizieranno dei turni brutti per Selvmax Dove mi inizierò a trasformare infinito Eeeh ma mezzo di sto gamma se l'hai mangiato Gli ho detto vabbè mo dura un altro turno Bro chill bro chill 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 bro Poi quando devo fare una run che devo fare di partire all'iPhone non fa mai un cazzo Mi ha lockato a cosa Su me che cazzo mi prego Signori Preparate il cannone No questo eh Cannone è andato Eeeh mo il cannone grosso è più grosso La madonna E mo buon divertimento Uso il finito pure hai Oh due milioni Così però questi due milioni li lancio via Bullismo bullismo Picchiate Selv Piccolo il suo cannone speciale E' quello perchè Gona si è trasformato Quello chissà quanti cannoni si è fatto Eeeh Awakening Gohan Full cannoni Praticamente è overkill Gioca sto team contro St.Max Totto metà vita Con solo un turno di piccolo Immagino che ne ho altri due E c'ho ancora un altro piccolo da trasformare Completamente no sense Attivare la modalità facile a Selv Max Fatto Diverti di Selv Tanto non ho nulla da fare Ogni special è una barra vita quasi Ecco come bisogna fare l'artificio all'iPhone Mettete un artificial Poi prendete piccolo amico La riattivazione della mod gigante In che senso Il gender può attivare solo una volta durante la run E devi Per piccolo Di specchiare delle migliori condizioni Mentre per altri è a cazzo di cane Nooo Mesturato solo due turni E adesso come farò Nooo Gohan siamo tutti con te 0-22 No no ma questo gohan non ho mai lanciato special Sì sì Lora ma di solito rimane tre turni Mo ho sfigato per carità Ci pensa Gohan a finire il lavoro Ci pensa Gohan Ci pensa Gohan E' durato tre turni Povero sei max annigilito Vorrebbe cambiare vita adesso credo Ma poi un'altra cosa Via proprio Via 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 e lascia vivere